Di questa gara 2 è fantastica, una bella reazione della Zambelli Orvieto che vince e convince direi. Beh sì, abbiamo dimostrato che comunque noi questa finale playoff ce la meritiamo. Oggi abbiamo fatto una grande partita, siamo state una squadra che non ha mai mollato e alla fine il risultato l'ha portato a casa. Qual è stata la differenza di queste prime due partite? Un 0-3 nettissimo fuori casa e un 3-1 possiamo dire abbastanza netto anche in casa. Beh netto un po' così perché comunque sono stati combattuti. Beh la differenza è stato il nostro approccio mentale alla partita, la siamo andate con la voglia di vincere, con la quasi prepotenza di voler vincere. Mentre oggi ce la siamo vissuta come un'occasione, un'opportunità, ci siamo divertite di più, abbiamo giocato mente leggera e si viste la differenza. E adesso che cosa ci aspetta per gara 3? Beh loro avranno fame di vittoria, noi avremo fame di vittoria, sarà una partita che mi auguro diverta anche il pubblico e che poi faccia vincere comunque chi se lo merita. Grazie. Grazie. Grazie.